Preghiera al Papa Buono. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Carissimo San Giovanni XXIII, tu che sei conosciuto, amato ed invocato in tutto il mondo, con l'appelativo di Papa Buono, aiutaci a scoprire negli avvenimenti tristi e lieti della nostra esistenza, l'infinito amore, l'immensa bontà, il misterioso agire e l'eterna misericordia di Dio, di Lui che solo è buono, e dalla cui fonte con umiltà, timore e riconoscenza, lieto ti sei disetato per tutti i giorni della tua vita. Donaci la grazia di essere sempre obbedienti alla volontà di Dio Padre, gioiosi annunciatori e testimoni fedeli della pace donataci da Gesù, miti e umili portatori di quella luce negli occhi, che hanno solo i bambini, e coloro che come te, si specchiano sempre nella comunione d'amore dello Spirito Santo, del quale e nel quale sono intimamente immersi, dolcemente pervasi e serenamente perduti. Amen. O Padre, che in San Giovanni XXIII, tuo servo umile e fedele, hai offerto alla Chiesa e ad ogni uomo un'icona palpitante della bontà e dell'amitezza di Gesù, buon pastore, che fa di noi tuo popolo. Per intercessione della sua fervida preghiera, camminiamo sulle vie del mondo nell'obbedienza e nella pace verso l'abbraccio gioioso della tua pienezza. Concedi per intercessione di Lui, che ebbe la gioia di vivere in una famiglia, pace e serenità alle nostre famiglie. La sua intercessione sostenga i passi dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. La sua mano benedicente accarezza il volto dei nostri bambini. Il suo sorriso cordiale e limpido consoli le sofferenze degli anziani e degli ammalati. Fa, oh Padre, chiamiamo come Papa Giovanni XXIII la tua santa volontà nelle cose di ogni giorno. Donaci il suo sguardo di fiducia e di speranza in te, nelle inevitabili difficoltà della vita. Fa che possiamo amare come Lui la preghiera, per trovare sempre nel colloquio con te, la sorgente della vera pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera dell'autista Signore, concedimi una mano ferma e un occhio vigilante, affinché non ferisca alcuno quando passo. Tu hai dato la vita, e io ti chiedo che nessuna delle mie azioni sia contro questo dono che viene da te. Insegnami ad usare la mia automobile, per i bisogni degli altri, a non disprezzare per amore della velocità le bellezze del mondo che tu hai creato, affinché possa con gioia e cortesia continuare la mia strada. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. San Giovanni XXIII prega per noi.